Ciao Raffaele, io sono il Salutatore, tu sei un grande e ti chiedo un saluto a tutti i tuoi fan. Ah beh, io un bacio a tutti quanti, io ero molte donne. Ecco, ecco, grande. Allora, salutiamo tutti quanti e ho una sorpresa per te perché te la perditi, la manina del Salutatore. Ah, grazie mille. Grazie a te. Grazie a te, grazie a schiena. Ah, e salutare. Ma bene. Ciao, 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 ciao.